9-9 7-9 Sì? Oì! Il Giemi! Patrizia! Patrizia, ti stai a tenere fermo, adesso, vanti. Sù, su, 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 su! Sù, su, su! Sù, su, su! Scucu! Bufu, SBD, non c'è più! Bufu, Bufu, SBD, non c'è più! Grazie a tutti! Sì, guarda, ci troviamo proprio a Palazzo Mercanti, non solo a Palazzo Mercanti, ma proprio nella sala del Consiglio Comunale, che è stata letteralmente in base allo scopo order di Patrizio Barbieri, Celicane, Bufu, Bambini e Rolida Stalin.